Un buoto simile a un'esplosione è una lunga scia di fumo bianco. Una pioggia di meteoriti si è scatenata nei cieli della Russia, provocando centinaia di feriti e anche danni agli edifici. Il fenomeno ha scatenato violente esplosioni a bassa quota nella regione centrale di Cegliabinsk, e sugli Urali, a circa 1.500 chilometri a est di Mosca. L'evento potrebbe essere collegato all'impatto con un asteroide, ma, spiegano alcuni esperti, più piccolo rispetto al 2012 dia 14, che in serata sfiorerà la Terra. Troppa, infatti, la distanza temporale. La pioggia di meteoriti ha scatenato il panico tra la popolazione, non solo l'economia è vulnerabile, ma anche l'intero pianeta, ha detto il premier russo Dmitry Medvedev al forum economico in corso in Siberia. Grazie!